Non voleva altro che soldi, 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 soldi. Non era giusto, potrebbe essere messa via la diletta. Diletta, figlia maggiore dei coniugi Miattello, fermata e ora in carcere a Verona come principale sospettata della morte della mamma Maria Angela e del ferimento del padre Giorgio, gravissimo in ospedale. Domani per lei è stato fissato l'interrogatorio di garanzia. Potrebbe essere quello il momento della verità. L'occasione per la 51enne per spiegare le ragioni che possono averla portata a compiere un gesto così efferato. Che la donna fosse dipendente economicamente dalla famiglia era cosa nota tra i vicini che tanto amavano la famiglia Miattello. Maria Angela, ex insegnante, donna sempre discreta, è il padre Giorgio, già sopravvissuto ad una grave malattia. È stato tanto tempo in Padova. Mi hanno già sofferto tanto. Sofferto tanto. Giorgio Miattello è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni restano gravi ma sono stabili. Sempre per domani è stata fissata l'autopsia sul corpo di Maria Angela. Servirà per capire cosa ne abbia causato la morte. Ed è certo intanto che l'omicida abbia usato dei vasi per colpire i coniugi alla testa e poi dei cocci per ferirli al volto. Una furia omicida spiegabile solo se si esclude la premeditazione. Chiara, la figlia minore della coppia, si è chiusa nel silenzio nella sua villetta a Cittadella. A lei il padre avrebbe sussurrato il nome della figlia, nell'intento, pur nel dolore straziante delle ferite del corpo, di portare gli inquirenti sulle tracce della sorella.